Sono Leonardo Di Clemente, l'executico chef del Four Seasons Hotel Gresham Palace di Budapest. Sono italiano e quello che facciamo noi qua è una cucina mediterranea con un twist ungherese. La cucina mediterranea è una cucina mediterranea, ma la maggior parte della cucina mediterranea è un po' di stigione. Perché nel passato, la cucina mediterranea avevano bisogno di mangiare per vivere e non per l'esperienza. E io vedo che ogni giorno c'è un po' di cambiamento. E ci sono iniziato a diventare più gourmet di prima. La cucina in Londra, la tecnica è più francese. E in più, io andavo a Tokyo, dove si apprende più dettagli e non manipulare troppo gli ingredienti. Ovviamente, questo è quello che crea la mia filosofia nella tavola. Quando cuoco, per me è molto importante il tasto. Tastare sempre la città. Prima di farlo, bisogna farlo. Questo è il primo passo. Ma il secondo passo è la tavola. Il primo passo è il visuale. E poi, se il cliente si mangia con il visuale, si piace anche il tasto. Ma, ovviamente, il tasto della città è molto importante. Perché nella memoria dei clienti, è quello che hanno portato dal ristorante. E per noi è molto importante. Quando abbiamo cambiato la ricetta, non vogliamo cambiare 100% la test della ricetta. Perché i clienti vogliono avere una memoria della città. Quindi vogliono ricordare, la città è la stessa cosa che ho avuto 20 anni fa. O quando ero un figlio, quando mia mamma, aveva cucinato quando ero. Ma quando abbiamo creato un menù, c'è un studio dietro. Abbiamo già studiato, abbiamo studiato tre mesi prima. e abbiamo creato questa misura, Gresham tea, con il nostro mattino di tè in Gresham. Abbiamo il tè città che gli ugrini, è quello che gli ugrini piacevano. È il tè più comune. Poi, in maniera, dopo il mattino, quando si fanno una cosa, si fanno una palinka. Quindi, abbiamo cercato di mettere 360 gradi come possiamo mettere un ugrino in una coppa di tè.